buonasera a tutti amici di vanilla scusate per il ritardo sono stato un po impegnato in questioni tecniche che si sono risolte nel modo più più breve spero vada tutto bene spero abbiate passato una buona giornata io sono stato un po in giro ecco e chi mi segue su instagram lo sa ma visto infatti sono un po stanco devo dire la verità è stata una domenica di esplorazioni impegnativa e questo spero non sembra molto bello messo così mettiamolo da questa parte in questo modo e quindi sono un po stanchino però tenteremo di fare un'ottima serata come sempre qualcuno di voi mi ha chiesto se stasera avessi fatto una live sulla guerra no no non faccio live mi sembra che la situazione sia abbastanza stabile e quindi è inutile continuare a fare continuamente live sulla guerra se ci saranno degli aggiornamenti come dire di questioni da discutere insieme sicuramente torniamo a far live sulla guerra ma per ora direi che che possiamo riprendere il nostro programma solito con la speranza anzi di fare presto una live sulla guerra in modo che dica che sia finita ecco questo è la la speranza la speranza più grande sostanzialmente bene stasera quindi parliamo di lord lucan io non lo pronuncio benissimo sicuramente l'ho ascoltato tre quattro volte prima di pronunciarvelo però c'è questa pronunciata io diciamo che lo potremmo dire anche in italiano in italiano lord lucan comunque o lucan eccetera comunque lui ve lo faccio vedere perché l'avete visto soltanto in copertina ed è lui con la moglie e scopriremo perché la moglie è tanto importante alcuni di voi secondo me già conoscono la vicenda altri no e comincio subito a leggere l'articolo che è stato scritto da roberto cocchis non è lunghissimo e quindi ci sarà tempo sia per la discussione sia per eventuali ritardatari di entrare dopo e magari riassumiamo un po tutta la questione ecco saluto a no scusate prima di tutto e saluto i nuovi abbonati che sono tantissimi davvero grazie mille perché vi siete abbonati credo negli ultimi giorni almeno una cinquantina di persone e quindi volevo ringraziare tutti i nuovi abbonati perché state davvero sostenendo il canale e adesso in programma spero di riuscire a fare un video a settimana sono tutti video come avevo annunciato non solo demonetizzati ma sono anche vietati i minori di 18 anni che cosa vuol dire questo vuol dire che non è solo una questione di guadagno di incasso mancante ma è proprio il fatto che questi video non sarebbero non arriverebbero quasi a nessuno perché tanto vietati i minori di 18 anni youtube non li propone e quindi ho deciso di farli per abbonati almeno arrivano quelle persone lì senza senza ulteriori problemi e gli ultimi due che ho fatto sono stati il video su pol pot e il video sul massacro di nanchino tutti e due vietati i minori di 18 anni e continuerò un altro video che farò prestissimo è il genocidio degli armeni basato su un articolo di analisa lo monaco abbiamo fatto questa scelta qui almeno la portiamo avanti ho visto però peraltro che ha avuto un bel successo in termini nel fatto che tanta gente adesso ci sostiene con un euro al mese però insomma ci sostiene questo per me è bellissimo sapere di avere 640 persone no 660 siamo arrivati le ultime che sono iscritte gli ultimi giorni sono state 40 per me è davvero stato insomma una bella sorpresa prima di cominciare voglio salutare un membro della community che si chiama Manuel compie 28 anni e qui è conosciuto come Minotaur Racing quindi tantissimi auguri questo è il regalo che ti fa la tua ragazza so che mi stai seguendo che mi stai guardando quindi questo qui è il regalo ovvero gli auguri da parte miei che non contano molto ma sicuramente da parte di tutta la community di Vanilla Magazine bene ho finito i miei cinque minuti di preambolo e vado a leggere l'articolo che è di Roberto Cocchis che io avevo intitolato in realtà non come la live di stasera ma che fine ha fatto Lord Lucan questa storia potrebbe essere raccontata in un milione di modi probabilmente ha fatto bene la scrittrice Jill Dawson che dopo tante precise ricerche ha preferito ricavarne un romanzo anziché un saggio perché è davvero un romanzo solo che si è svolto nella realtà un romanzo cupo pieno di sangue e di misteri quindi se siete persone facilmente impressionabili voltate pagina quindi cambiate live e passate oltre gli altri invece si mettano comodi perché la vicenda è maledettamente ingarbugliata è a tutt'oggi non risolta quindi non sappiamo che non sappiamo quale sia la conclusione in realtà poiché si svolge in Inghilterra questo romanzo lo facciamo cominciare alla maniera di Agatha Christie ossia in un momento in cui le cose sembrano andare a gonfie vele per i protagonisti siamo a londra nel novembre del 1963 e si sta celebrando lo sfarzoso matrimonio tra Richard John Bingham settimo conte di Lucan e l'ex modella Veronica Duncan lontanamente imparentata con gli Spencer la famiglia della futura Lady Diana la coppia sembra destinata al più fulgido avvenire e nei primi anni la loro unione sarà allietata dalla nascita di tre figli Francis nel 1964 George nel 1967 e Camilla nel 1970 però anche le migliori famiglie possono nascondere qualcosa qui alla mia sinistra li vedete insieme Lord e Lady Lucan il settimo conte di Lucan che d'ora in avanti chiameremo Dicchi come facevano i suoi amici è nato nel 1934 ed è cresciuto negli Stati Uniti dove la famiglia lo aveva fatto trasferire all'inizio della guerra ha studiato Aiton ma i suoi risultati sono stati così soddisfacenti che i genitori finita la scuola anziché mandarlo all'università lo hanno fatto arruolare nell'esercito dove è diventato ufficiale dopo qualche anno di servizio in Germania si è congedato e tornato in patria e sempre attraverso la sua famiglia ha trovato un buon lavoro in una banca londinese la William Sons & Company dove guadagna 500 sterline l'anno una cifra ragguardevole per l'epoca qualcosa che assomiglia a circa 60.000 dollari odierni la moglie Veronica nata nel 1937 è un'ex studentessa di arte che lo ha conosciuto appena dieci mesi prima delle nozze tra i due è scoccato subito il colpo di fulmine il fidanzamento e il matrimonio sono seguiti a stretto giro in realtà quando sposa Veronica di chi ha già mollato la banca perché preferisce fare altro la sua principale passione è quella per il gioco d'azzardo a Beggemon e Bridge è imbattibile lo chiamano Lucky Lucan una serie di forti vincite lo hanno convinto che il lavoro in banca sia tempo sprecato quando si può guadagnare molto di più in meno tempo e con meno sforzo al tavolo da gioco la leggenda di Lucky Lucan non durerà a lungo perché nel corso della sua carriera di giocatore d'azzardo professionista di chi vincerà sì grosse somme ma ne perderà di ancora più grosse infatti benché i genitori continuino a foraggiarlo senza sosta presto si troverà continuamente indebitato con diversi amici gli amici continuano a prestare gli soldi perché di chi è corretto appena vince ripaga tutti i debiti che può ma la somma dei debiti continuerà a salire nel tempo anche perché a di chi non piace solo il gioco ma la bella vita in generale tra viaggi per i quali non disdegna di noleggiare aerei privati cavalli, auto di lusso, scommesse su tutto i soldi non gli basterebbero nemmeno se vincesse sempre eppure chi lo conosce lo descrive come un uomo piuttosto timido e insicuro poiché è altissimo e prestante nonché molto fascinoso per i gusti del tempo il produttore cinematografico Albert Broccoli suo amico lo vorrebbe come interprete di un nuovo film che sta per girare tratto dai romanzi di Ian Fleming di chi rifiuta e il ruolo andrà un attore scozzese che fino ad allora non aveva mai recitato come protagonista Sean Connery sono sicuro che avete capito tutti a quale serie di celebri film di spionaggio si riferisca a Roberto alla lunga la situazione matrimoniale si deteriora Veronica dopo l'ultima gravidanza non è più riuscita a tirarsi fuori da una depressione post partum che l'ha costretta a rivolgersi a uno specialista nello scoprire i debiti del marito dei quali la donna era all'oscuro può aiutarla a stare meglio nel 1972 quindi due anni dopo la nascita dell'ultima figlia se non ricordo male i due si separano e Dicchi va a vivere non distante dalla loro casa coniugale nel signorile quartiere londinese di Belgravia in seguito sembra che Veronica tente di riappacificarsi con lui ma senza successo su cosa sia accaduto tra i due nell'ultima fase della loro convivenza si faranno milioni di pettegolezzi ma tutti destinati a rimanere allo stato di dicerie resta il fatto che Dicchi non vuole tornare con la moglie ma pretende la custodia dei figli provvisoriamente affidati a lei Dicchi sostiene che la moglie è pazza e potrebbe essere un pericolo per i figli Veronica racconta invece che Dicchi quando perde la testa e diventa violento quando perde la testa diventa violento e un paio di volte per poco non l'ha ammazzata il giudice che deve decidere sull'affido dei bambini sentiti gli psichiatri che tengono Veronica in cura decide che i figli possono stare con lei Nel frattempo, mentre le dispute tra i due finiscono inevitabilmente per allontanarli dagli amici comuni nella casa in cui Veronica vive con i figli si avvicenda un piccolo esercito di tate e di ragazze alla pari non è facile stare alle dipendenze di una donna esaurita, stolcherata da un marito che adesso non sembra pensare ad altro al punto da mettere l'abitazione sotto il controllo assiduo di una squadra di investigatori privati Finalmente, nel 1974, sembra arrivare la tata giusta, quella che mette d'accordo tutti Veronica era assicurata dalla sua presenza, i bambini la adorano perfino Dicchi va d'accordo con lei Si chiama Sandra Hensby, è nata nel 1945 da una famiglia modesta, è cresciuta in Australia ha lavorato come segretaria e parrucchiera, ma poi è rimasta incinta da un uomo che l'ha abbandonata poco prima che nascesse il figlio Il bambino, una volta nato, è stato adottato dai genitori di Sandra e lo hanno chiamato Neil A quel punto, Sandra si è trasferita a Londra, ha trovato un nuovo lavoro come segretaria e ha sposato un marinario, marinaio, Roger Rivet Ma né il lavoro né il matrimonio sono durati a lungo e Sandra si è proposta come domestica a un'agenzia che l'ha spedita a casa a Lucan Poiché non è ancora divorziata dal marito, le cronache del tempo si riferiranno a lei sempre come Sandra Rivet Come testimonieranno poi le sue amiche il suo nuovo ragazzo, John Hensky, un giovane di origine giamaicana Sandra non sta affatto volentieri in quella casa, si sente in pericolo ma esita ad andarsene perché è preoccupata di ciò che potrebbe accadere ai bambini, ai quali è molto legata Fino a una fredda serata d'autunno, quella di giovedì 7 novembre 1974 Sarebbe la sera libera di Sandra, ma questa, d'accordo con Veronica, l'ha scambiata con la sera precedente per andare a un evento con John Sembra una serata come tante, Sandra parla un po' al telefono con John, mette a letto i bambini e verso le 21 le viene voglia di una tazza di tè La cucina è nel seminterrato dell'immobile a quattro piani Scendendo, Sandra passa davanti alla stanza da letto di Veronica e le chiede se vuole una tazza di tè anche lei Veronica risponde di sì Passano i minuti e non arrivano né Sandra né la tazza di tè Veronica si chiede se possa essere successo qualcosa alla tata e scende nel seminterrato a vedere che cosa stia accadendo Basta un'occhiata per capire che qualcosa non va Veronica si ferma sulle scale e chiama Sandra? Ma in quello stesso istante qualcuno le salta addosso e l'aggredisce I due lottano, l'aggressore tenta di metterle le mani in faccia ma Veronica gli morde le dita Poi se lo ritrova addosso che tenta di strangolarla e ha la presenza di spirito di prendergli i testicoli e strizzarglieli A questo punto il racconto della donna si fa confuso perché l'aggressore si rivela essere il marito al quale è passato ogni istinto omicida però ammette anche di aver ucciso Sandra e di aver nascosto il suo cadavere in un sacco della spazzatura Veronica finge di assecondarlo ma approfittando del fatto che lui è salito di sopra per rassicurare la figlia maggiore che ha sentito tutto il trarambusto e sta chiamando con la scusa di andare in bagno scappa Incurante del gelo notturno corre in strada per alcune centinaia di metri a piedi nudi fino al pub Plumber Harms dove agli avventori va la birra di traverso appena vedono entrare quella donna coperta di sangue che grida Assassino! Ha ucciso la bambinaia! Qualcuno dal pub chiama la polizia e una pattuglia si presenta davanti alla casa degli Ucan La porta principale è chiusa e gli agenti la sfondano per entrare A parte questo non si troveranno altri segni di effrazione sulle aperture dell'immobile In casa ci sono i bambini che dormono, ignari di tutto Ma c'è anche nel seminterrato il cadavere di Sandra Uccisa con una serie di colpi alla testa inferti con un tubo di piombo rivestito di nastro adesivo e poi chiusa sommariamente in un sacco L'arma del delitto è ancora lì I rilievi di polizia scientifica attesteranno che la donna non è morta subito Ma che ha lottato a lungo con il suo aggressore prima di soccombere Di Dicchi invece non c'è nessuna traccia L'uomo ricompare poco prima di mezzanotte in un elegante dimora signorile di Huckfield nel Sussex Una cinquantina di chilometri a sud di Londra Bussa alla porta di un amico, Jan Maxwell Scott Però Jan non c'è, si è trattenuto a dormire a casa di amici In casa ci sono sua moglie, Susan, pure amica di Dicchi E due dei loro sei figli Senza svegliare i bambini, Susan fa entrare Dicchi Lo fa accomodare in salotto, gli offre un whisky e un caffè e ascolta il suo racconto Dicchi le spiega che poche ore prima, mentre passava davanti alla sua ex casa Ha visto da una finestra del seminterrato la moglie che sembrava lottare con un uomo Avendo la chiave di casa si è precipitato dentro Ma è scivolato su una pozza di sangue ed è caduto per le scale Così facendo è finito addosso la moglie che lo ha aggredito Accusandolo di aver pagato un sicario per ucciderla Con molta fatica è riuscito a calmarla e a prestare i primi cossoccorsi Ma la donna è scappata di casa appena lui si è distratto per andare dalla figlia Dicchi teme che Veronica, già da tempo ossessionata dal pensiero che lui la voglia morta Ne approfitterà per accusarlo del delitto Susan obietta che se l'assassino ha ucciso proprio Sandra Magari era già lei il suo bersaglio e poi si è scagliato contro Veronica Perché questa lo ha sorpreso con le mani nel sacco Dicchi risponde che Sandra era una bravissima ragazza E non è possibile che qualcuno le volesse male I due discutono ancora un po' finché lui chiede della carta da lettere per scrivere a Bill Shen Kidd Il marito della sorella di Veronica, un altro suo amico Cui chiede di occuparsi dei suoi figli mentre lui rimane nascosto in attesa che si calmino le acque Poi Dicchi decide di andarsene e resistendo alle insistenze di Susan Le promette di farsi sentire se ci saranno delle novità Da quel momento in poi non lo vedrà mai più nessuno Telefonerà soltanto una volta a sua madre Subito dopo aver lasciato casa Maxwell Scott E prometterà di richiamare ma non si farà più vivo Infine spedirà una lettera a un amico Michael Stoop Ma non si sa da dove visto che il destinatario getta subito via la busta Quando Ian Maxwell Scott torna a casa davanti alle preoccupazioni della moglie Risponde che Dicchi e Veronica sono due pazzi Che Dicchi ultimamente sta vivendo un po' troppo ed è vero E chissà quante esagerazioni conteneva il suo racconto La coppia trascorre la giornata successiva in giro per la campagna E solo due giorni dopo apprende dai giornali che i fatti narrati da Dicchi sono successi davvero A quel punto Ian chiama Bill Shankid che sta trascorrendo il weekend in campagna e gli racconta della lettera Bill torna precipitosamente a Londra, trova la lettera e la consegna subito alla polizia Ai poliziotti appare sospetto che i Maxwell Scott abbiano perso tanto tempo prima di rivelare quanto sapevano Secondo loro la coppia sa dov'è Dicchi e lo tiene nascosto Susan subisce un lungo interrogatorio nel quale dichiara che sugli abiti di Dicchi non c'era alcuna macchia di sangue Né se ne troveranno sul tappeto su cui ha camminato e sulla sedia sulla quale si è seduto Ma solo una piccola macchia umida sul fianco dei pantaloni Intanto la polizia di New Haven, una cittadina sempre nel Sussex, distante una trentina di chilometri da Huckfield E vicina al canale della Manica, riferisce la presenza di una Ford Corsair abbandonata in una strada laterale Dalle prime ore dell'8 novembre La macchina appartiene all'amico cui Dicchi ha scritto l'ultima lettera Michael Stoop che gliel'ha prestata All'interno le indagini porteranno la scoperta di un pezzo di tubo di piombo simile a quello con cui è stata uccisa Sandra Rivestito da un nastro adesivo pure simile Ma secondo gli stessi tecnici non è possibile dimostrare che i tubi derivino dal taglio di un tubo più lungo Né che i nastri provengano entrambi dallo stesso rotolo Ci sono anche piccole macchie di sangue che sembrano appartenere al gruppo AB Si farà poi l'ipotesi che sia un gruppo misto di sangue A, quello di Veronica, e di gruppo B, quello di Sandra Anche se sulla scena del crimine non c'è nessuna impronta riconducibile a Dicchi I poliziotti verificano che per guardare attraverso la finestra del seminterrato di casa sua occorre praticamente stendersi per terra Oltretutto la luce nel seminterrato è molto fioca e non sarebbe facile identificare una colluttazione dall'esterno La stampa scandalistica si getta ovviamente sul caso Un lord assassino è un boccone troppo ghiotto per farselo scappare Nel tritacarne mediatico finiscono anche i suoi amici accusati di tramare per nasconderlo Le pubblicazioni non risparmiano le photoshop come quella del seminterrato dal pavimento coperto da chiazze di sangue Peraltro la trovate su internet, se la cercate io non l'ho messa nell'articolo perché come sappiamo la censura è sempre feroce in questi casi Google, Facebook eccetera, però la trovate L'inchiesta, cominciata nello stesso novembre del 1974, sarà aggiornata più volte nella speranza di trovare Dicchi nel frattempo Però l'old Lucan non si trova da nessuna parte e prende sempre più corpo l'ipotesi che si sia ucciso gettandosi in mare forse già l'8 novembre E infine Dicchi viene giudicato in contumacia il 16 giugno del 1975 La sua è una sentenza per molti versi storica Si tratta dell'ultimo assassino condannato direttamente dal tribunale del coroner Una legge del 77 renderà poi illegittima questa procedura Ed è il primo membro della Camera dei Lord condannato per omicidio dal 1760 Quindi 200 e passa anni Nel frattempo la teoria del suicidio di Dicchi ha trovato sia sostenitori sia detrattori Veronica, morta a sua volta suicida nel 2017, era convinta che il marito si fosse davvero ucciso L'ufficiale di polizia che diresse le indagini, Roy Ransom, inizialmente era convinto del suicidio Poi cambia idea Dicchi è stato avvistato qualche decina di volte in tutto il mondo Fra cui alcune nazioni, India, Nuova Zelanda, Australia, Paraguay, California e persino in Italia, sull'Etna Ma i successivi controlli hanno sempre accertato che si trattava di uomini che gli assomigliavano soltanto In seguito, la famiglia ha dovuto affrontare grandi difficoltà economiche Sia per i debiti che aveva lasciato, sia perché, non essendo ufficialmente morto Gli eredi non potevano riscuotere né crediti, né affitti, né altre rendite a suo titolo Solo nel 2016, grazie a una nuova legge, il figlio George ha potuto ottenere la dichiarazione di morte presunta Ed è così diventato l'ottavo conte di Lucan George Bingham ha stretto un singolare rapporto di amicizia con Neil Berryman Il figlio che Sandra aveva dato in adozione I due sono uniti dal comune rimpianto della donna L'uno per non averla mai potuta conoscere L'altro perché ne conserva un ricordo dolcissimo Entrambi sono convinti che Sandra non sia stata uccisa da Dicchi Ma che Dicchi abbia detto solo una parte della verità Secondo George e Neil, Dicchi pagò un uomo per sottoporle la moglie a un'intimidazione Ma questo, imbattendosi nella tata, perse la testa e la uccise A sostegno della loro opposizione, argomentano che Sandra non fu uccisa subito Ma l'assassino ebbe tutto il tempo di riconoscerla Eppure si scagliò contro di lei, come se fosse stata Veronica Quindi doveva essere qualcuno che non conosceva nessuna delle due donne E fra le altre cose, le due non si somigliavano affatto Sandra era più alta e rossa di capelli Mentre Veronica era bionda D'altro canto, i rapporti di Dicchi con Sandra erano ottimi E se la donna l'avesse sorpreso nel seminterrato Lui avrebbe potuto facilmente convincerla a tacere, anche pagandola Secondo, George Neill, che aveva procurato il sicario a Dicchi Quando questo gli si rivolse per chiedere ancora aiuto Gli fece credere che lo avrebbe nascosto E poi lo uccise, lontano dagli occhi di tutti Per non essere coinvolto Vi rileggo la conclusione, che secondo me è molto molto interessante Secondo, George Neill, chi aveva procurato il sicario a Dicchi Quando questo gli si rivolse per chiedere ancora aiuto Quindi forse un suo amico Gli fece credere che lo avrebbe nascosto E poi lo uccise, lontano da tutti Per non essere coinvolto Allora, leggo Che è una storia contorta Sì, è una storia contorta Vi faccio vedere qualche foto in più, fra l'altro Che ce l'avevo qua È lui, Lord Lucan Un uomo, direi Beh, non mi voglio Cioè, sicuramente molto elegante Insomma, un bel aspetto Ed era, fra l'altro, il designato Per andare a fare 007 Cioè Broccoli voleva lui per fare 007 Una circostanza, secondo me Veramente, come dire Proprio interessante, ecco Allora, quindi Volete Oddio Volete Volete Allora, vi faccio un po' un riassunto, dai Tento di fare un riassunto In modo da In modo da Da aiutare anche chi è arrivato Adesso a entrare nella discussione Dunque Ci sono Una coppia di sposi Lord Lucan e sua moglie Che Divorziano Sono gli anni 70 E la moglie tiene in custodia i figli Il marito Non si dà per vinto Vorrebbe in custodia lui i figli Lui è un giocatore d'azzardo È uno scapezzacollo, diciamo Ma È innamorato dei bambini E vuole assolutamente avere La custodia dei bambini Mi viene un po' in mente La storia di Mrs. Dubfire Ecco Iniziano Inizia la giravolta delle tate In casa Per tenere i bambini Ce ne sono alcuni Che Un bambino è piccolino piccolino Un altro C'è una bambina un pochino più grande Però sono tutti in un'età molto molto D'infanzia Ecco Piccoli Dai 2 ai 6-7 anni Trovano questa tata Che si chiama Sandra La quale ha avuto un bambino Che è stato dato in adozione E ha una storia con un nuovo uomo Sostanzialmente Sandra Si trova una sera di novembre In casa E una sera peraltro Che avrebbe dovuto essere libera Si trova in casa E viene aggredita da un uomo Quest'uomo Inizia a salire le scale E trova La moglie di Lord Lucan Che viene giù Per vedere che fine avesse fatto Sandra Inizia la lotta fra i due Ma la moglie La donna Riesce ad avere la meglio Sull'aggressore E Gli impone la calma Questo aggressore Viene riconosciuto dalla moglie Come l'ex marito E quindi come Diki Lord Lucan La donna riesce a scappare Si precipita in un pub Chiama la polizia La polizia arriva a casa loro Non trova nessuno Trova soltanto il cadavere Della 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 tata E I tre bambini che dormono I gnari di tutto A letto Diki Si presenta Il Lord Lucan Quindi si presenta A casa di un'amica Circa 50 km di distanza Dicendo Che la moglie Lo ha trovato Lui aveva visto La moglie E Un aggressore Che lottavano Dentro Dentro casa Lo ha trovato E Lui ha Combattuto La moglie L'ha scambiato Per l'aggressore Nel parapiglia generale Lui è scappato Perché aveva paura Che la moglie Lo incolpasse Di essere L'aggressore Dopo Aver trovato Dopo essere scappato Sostanzialmente Lui scrive Un'ultima lettera In cui Raccomanda Il cognato Quindi Il marito Il cognato acquisito Quindi il marito Della sorella Della moglie Di prendersi cura Dei figli Dei bambini Che erano rimasti A casa Il Diki Quindi Lord Yukon Dopo questa lettera qui Svanisce nel nulla Viene ritrovata Dopo Qualche giorno La sua auto L'auto che aveva Chiesto in prestito Da un amico Con all'interno Un tubo di fe Di piombo Praticamente identico A quello Una parte Insomma Di quello Che era stato trovato Che era stato trovato Come arma del delitto Per aver ucciso La tata Sandra Da allora Lord Yukon Svanisce Completamente Nel nulla Non si sa Non si hanno più notizie Dell'uomo La moglie L'ex moglie Scusate Si suicida Nel 2017 La donna Aveva Sostenuto Che secondo lei Diki Lord Yukon Si era suicidato La teoria Del figlio Di Sandra E di Giorgio Uno dei figli Di Lord Yukon È che L'uomo Aveva soldato Un sicario Non per uccidere L'ex moglie Ma per intimidirla Il sicario Chissà perché Chissà per come Aveva invece Si era Come dire Rivolto Contro la donna Sandra Contro la tata E l'aveva ammazzata Dopo aveva lottato Con la moglie Per ammazzare Per ammazzare Anche lei Ma Era Aveva avuto La peggio La moglie Era scappata E E Sostanzialmente Quindi Il sicario Era Come dire Era uscito Di scena Queste sono un po' Le teorie Spero di non Essermi ingarbugliato Nel rispiegarle Mentre Mi si è spenta La luce qua Che mi illumina Ma Continuate a vedermi Lo stesso Adesso provo a fare Un esperimento Ovvero usare Un power bank Per illuminare La Per usarlo Con la luce Vediamo se funziona Ecco Ah si Funziona subito Peraltro Oh che bello Posso usare anche Il power bank Per illuminarmi Ok Piccoli La bellezza Della diretta Ecco Ovvero i miei errori Di lettura All'inizio E La luce che si spegne Tutto in Presa diretta Allora Dunque Bevo un sorso Sì Elisabetta suggerisce Di bere un sorso Allora Dice Emanuela Ok Lui Sparito E la moglie Mamma dei bimbi Allora Lui è sparito La moglie Rimane coi figli E lì cresce Però poi dopo Nel 2017 Si è suicidata Anche lei Roberto Non ha specificato Le ragioni Del suicidio Potrebbero essere Diverse Ecco Non per forza Legate A Lord Lucan Ecco Allora Io direi Che la storia È veramente Veramente Intricata Non 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 nascondo Cioè che Non è Non è semplice Capirla Adesso Mi sposto No va bene così Va bene così Continuo Continuo a lasciarvelo A lasciarvelo Lì Allora La storia è intricata Io Ho un po' Di dubbi Ho un po' Di dubbi Lo ammetto Allora Il primo dubbio Che mi viene E vi butto lì Un po' Di dubbi Che mi sono venuti Adesso Rileggendolo E quando L'avevo editato Per Per Vanilla Magazine Allora Il primo dubbio È questo Se la moglie Avesse riconosciuto Un altro Un sicario Mettiamola così E Questo L'avesse L'avesse appunto Aggredita Mamma mia Che parola Ho appena detto Vabbè Se l'avesse Aggredita E E lei fosse riuscita A scappare Avrebbe lasciato lì Tre figli Da soli Con in casa Dentro un sicario E un cadavere Mi sembra Molto difficile Cioè Mi sembra Mi sembra Fatica Cioè nel senso Conoscendo un po' Di mamme Di madri Mi sembra Parecchio Difficile Immaginare Una mamma Che lascia Con un sicario Quindi con uno sconosciuto Che ha appena ammazzato Una donna Di sotto E lo lascia lì Con i figli Ancora in casa Non lo so Mi sembra un po' strano Plausibile Ma strano Arrivata al pub Se fosse stato un sicario Penso che avrebbe cercato subito Un aiuto maschile Per andare a proteggere i bambini Questo Non lo so Io La prima cosa che mi viene da pensare È questa No? Cioè Tu te ne scappi Cioè Sai che sei Cioè lasci lì Un uomo Che ha appena ammazzato una donna Con i tre figli in casa Mi sembra un po' strano Sono sincero Mi sembra un po' Voler scagionare per forza Lord Lucan Quello che dice la polizia Fra l'altro Scagiona un po' Il sicario Mi spiego La polizia dice Per vedere nel seminterrato Qualcuno che abbia una lotta Con qualcun altro Dovevi chinarti E stenderti a terra Cioè era un vero seminterrato Di quelli che hanno le finestrime In basso In basso In basso E dovevi andare a vedere È vero che Si poteva sentire Anche il rumore Non era tante volte Poi negli anni 70 Non è che ci fossero i tripli Quadrupli vetri Nonostante le case inglesi Avevano spesso Delle mura Importanti E delle grosse finestre Ma negli anni 70 I vetri grossi Non c'erano neanche in Inghilterra Quindi Secondo Mi sembra un po' difficile Questo è il primo dubbio Che butto lì Quindi la teoria del sicario Mettiamola così Si ferma un po' lì Cioè la moglie Che lascia La donna Insomma Che lascia i tre figli In casa Con questa persona Qualche altro dubbio Che mi è venuto Nessun segno di effrazione È vero che Lord Lucan Potrebbe aver dato Al sicario Le chiavi Quindi aver fatto una copia E quello ci sta Non è una cosa Non è una cosa Impossibile Il sicario Che perde la testa Perché Perdere la testa Con una E poi perché Ammazzare una donna Cioè L'omicidio È una Insomma Non è È un estrema È un atto estremo Non è Un Le do un pugno E la stordisco E anche lì Ma se io sono uno sconosciuto E mi trovo In una casa qualunque E come dire Ho fatto un'effrazione Posso dire Di essere Entrato per rubare Perché Devo spingermi A uccidere Quando È un crimine Che mi condanna A una pena detentiva Gravissima Ecco Il peggior crimine Ecco Dall'altro lato Ovvero Qui Ho Diciamo Messo dentro Qualche idea Che mi è venuta Contro Diciamo Lord Lucan Ma andiamo All'altro lato Se si fosse trovato In casa lui Con Sandra E Sandra L'avesse sorpreso Che bisogno Avrebbe avuto Di ammazzarla Avrebbe potuto Potuto inventare Qualsiasi scusa E dire Che si trovava Lì perché Aveva bisogno Di qualcosa Le chiavi le aveva Perché ammazzarla Anche lì Mi sembra Come dire Una soluzione Estrema Non ha nessun senso Uccidere una donna Peraltro Con la quale Ti trovi bene Hai un rapporto Perché Cioè Senza nessuna ragione Quando avresti potuto Inventare Qualsiasi scusa E qualsiasi scusa Sarebbe stata meglio Dell'omicidio Allora 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 Io Allora ancora Le tracce di sangue Che non si trovano Se tu ammazzi A sprangate Una persona Cioè Ti riempi Di sangue Nella macchina E a casa Degli amici Non viene trovato Praticamente Sangue Difficile Secondo me Abbastanza difficile Soprattutto In un'epoca Che sono gli anni 70 E già abbastanza moderna Per rivelare Alcune tracce di sangue Difficile anche questa Secondo me Io la butto lì Potrebbe Potrebbe Esserci una terza via Però Aspetto di leggere Qualcosa nei commenti Dai Allora Dice Giada Questa mi piace Magari ha sentito Un rumore E si è chinato Per guardare Dalla finestra Del seminterrato Più strano Mi sembrerebbe Che sia caduto Finendo addosso La moglie Che lottava Con un altro Dice Clarissa O è stato tutto ripulito O non è andata Proprio così Allora Del tutto Ripulito Mi piace Mi piace Del tutto ripulito Mi piace Perché Giustificherebbe I due giorni Che gli amici Di Lord Lucan Passano Che attendono Prima di rivolgersi Alla polizia Sì Il tutto ripulito Mi piace Mi piace Anche Il non è andata così Il non è andata così A me piace molto Non mi piace Cioè mi piace parecchio Perché secondo me Tutte e due le versioni Sono molto strane Tento di spiegarmi meglio Ripeto L'omicidio È È talmente grave Che è chiaro Che lui sarebbe stato Il primo sospettato Che senso avrebbe avuto Ammazzare la tata Se fossi stato in lui Cioè mi metto Un po' nei suoi panni No? Cioè voglio Far qualcosa A mia moglie Perché magari Si sta comportando male Voglio Non lo so Qualsiasi cosa L'ultima cosa Che faccio È andare a ammazzare La tata Cioè l'ultima Proprio Ma non ha senso Andare a ammazzare Uno lì So già che Se lotto Per la custodia Dei figli So già che È la cosa peggiore Che possa fare Perché i sospetti Cadranno sicuramente Su di me subito Quale altra ipotesi? Quale altra ipotesi? Andiamo avanti un po' Dice Giorgia Rosso Ah però Questo è interessante E se invece Non fosse stato un uomo Ma lei Beccando sul fatto Una ipotetica relazione Tra l'ex marito E la tata Anche questa non mi spiace Anche questa non mi spiace Questa mi intriga parecchio Dico la verità Mi piace come soluzione Perché È già Molto plausibile Devo dire la verità Oddio Bisognerebbe Allora Facciamo un po' Di mente locale Lei li becca Mettiamo che li becca In un momento particolare Intimo Dare sprangate in testa Alla donna No Però non mi suona Perché Il primo contro cui Mi rivolgerei È certamente L'uomo Ho sbaglio Mi viene da pensare questo Tra l'altro I due erano divorziati Non lo so Perché allora Avrebbe dovuto ammazzare Anche lui Oppure Lui Beh però Potrebbe non essere così pazzesco Anche perché lui Potrebbe essere dato Diciamo nudo E quindi Prima di riuscire a fermarla Avrebbe dovuto Sarebbe dovuto rivestire Sì Potrebbe starci Come ipotesi Potremmo approfondirla Nei commenti Non mi spiace La viandante dice I sospetti cadono Quasi sempre sul marito Esatto Qualcuno avrebbe potuto Monopolizzare O sfruttare La situazione Roberta Se la tata Fosse stata vittima Di uno scambio Di persona E il vero obiettivo Era l'ex moglie Dice però Che le due donne Non si assomigliavano Per nulla Una era più alta La tata era più alta Della moglie E la tata era rossa E la moglie era bionda Però Insomma potrebbe anche starci Annalisa dice A me sembra strano Che abbia bandato Un sicario Magari rischiando La vita dei figli Che amava tanto Anche a me Sembra strano Io la butto lì La butto lì Come suggerimento E se lui Avesse coinvolto Un amico In questa questione Ovvero Se lui Avesse coinvolto Un amico Nell'andare Intimorire la moglie Non un sicario Ma proprio un amico E Questi fosse stato Scoperto dalla tata E la tata Lo avesse riconosciuto Magari Con una pistola Addosso Magari Chissà cosa stava facendo Perché no E magari Dopo Tutta la serie Di conseguenze E Poi Ve ne butto lì Un'altra No Non ve ne butto lì Un'altra Vado a leggere Altri commenti Guarda Allora No Ecco Ve ne butto lì Un'altra La morte della tata Di un depistaggio Dice la viandante Dice Angela Vediamo un po' Non potrebbe averla uccisa Lei In modo contorto Per uccidere L'amante Del marito E scaricare La colpa Su di lui Beh Anche questa Non è Non è così assurda Lei avrebbe potuto Uccidere la tata Aspettare Che lui Entrasse Sapendo che lui Lui doveva entrare Far finta Di lottare Con lui Scappare E dire Che lui L'aveva uccisa E lei È morta Suicida Nel 2017 Oh Ragazzi Potrebbe Anche essere Questo Potrebbe Tranquillamente Essere questo E aver Messo La sbarra Di piombo Dentro la macchina Di lui Per far sì Che fosse ritrovata Sì La moglie Potrebbe essere L'assassina Sì Perché no Mi piace Mi piace questa Quest'ipotesi Mi piace tantissimo Non Davvero Questa non ce l'avevo pensato Ah scusate Fra l'altro Non ve l'ho detto prima Su questo fatto qui Guarda a casa È stata Tratta Una serie Una serie tv Quindi ve lo dico Perché Per chi è più curioso Può vedere La serie La serie tv Ecco Saluto Tutti quelli Che Non Che vanno a dormire In questo momento Come Clara Ecco E sì Non mi piace Ecco Non mi dispiace Questa mi È una bellissima ipotesi Mi piace tantissimo Ve ne butto un'altra Ve ne butto un'altra Libella Questa di Clarissa A caso complicato Ci vorrebbero le celluline Di Poaroqui È vero O di Miss Marple Adesso leggo anche questa Però poi vi dico un'altra cosa Chi l'ha uccisa L'ha sacrificata Per indurre Verso una direzione Ok Va bene Dice Renato Ciao Matteo È da parecchio che non ti faccio una domanda Un po' impegnato con lo studio Avendo visto la diretta di poco fa Ci sono altri casi come questo nella storia Un abbraccio a te a tutti E guarda Io non ne ho notizia Sono sincero Sembra più intricato di un libro di Akata Cristi Quindi davvero è complesso Io non ne ho notizia Però se ne avete Scrivetecelo E noi lo tratteremo Allora no Vi propongo invece io un caso Una cosa diversa Ovvero E se invece L'obiettivo fosse stata veramente la Tata E la moglie fosse finita in mezzo al caso Per caso E se lui fosse stato lì per caso Mi spiego ancora meglio La Tata fosse stata uccisa da un sicario Dei cui noi non conosciamo la storia E noi non sappiamo perché è stata uccisa O magari dal fidanzato Ecco Il fidanzato Aspetta La Tata in cucina di sotto L'ammazza Per qualsiasi ragione Per ragione di gelosia Per qualsiasi ragione La mette nel sacco E scappa Lui arriva Trova Magari il tipo che scappa La moglie che viene giù Trafelata La moglie Prende sull'occasione O magari chissà Confusa Lo accusa Di aver uccisa lui Ed era invece la Tata Il vero obiettivo Cioè qui La morte della Tata A me sembra assurda Sono sincero È plausibile Solo nel caso In cui sia stata la moglie Ad averla uccisa Perché lui Non aveva nessuna ragione Di ucciderla Cioè proprio Non vedo una Una ragione Che una Perché lui Uccide la Tata Cioè proprio non me la spiego O c'è una storia Che noi non sappiamo dietro Cioè che lui fosse L'amante della Tata E lei Scusate lui fosse geloso E chissà per quale altra ragione L'abbia voluto ammazzare Ma altrimenti Che lui ammazzi la Tata Non c'è nessuna ragione Veramente Proprio Non me lo spiego Secondo me Potrebbe essere Che invece La Tata fosse l'obiettivo Visto che comunque Aveva un passato Sentimentale complesso E ricordiamo Che sono gli anni 70 Quindi 52 anni fa Ecco Non ieri E Come dire Lui Si trova lì per caso E la moglie Lo accusa Ma magari anche senza Senza Come dire Malizia Soltanto perché La situazione è talmente complessa Che lei trae La conclusione più facile Ovvero che lui L'ha ammazzato la Tata E quindi scappa Scappa e lo accusa Perché no? A me viene da pensare questo Cioè che l'obiettivo principale Sia la Tata Perché altrimenti In nessun altro caso La vedo plausibile L'unico caso è Che la moglie L'ex moglie Pazza di gelosia In un Come dire In un momento di gelosia Vada ad ammazzare la Tata E si inventi Tutta sta storia qui Però altrimenti Che lui ammazzi la Tata Veramente non ha ragione D'essere Proprio non c'è ragione Non si capisce Perché lui Debbe andare a ammazzare la Tata Ecco Lui La Tata potrebbe essere Sata testimone Di qualche storia Disdicevole E perciò Viene fatta Viene fatta fuori Leggo Le ipotesi di Emanuela Lord Lucan Ha assunto Un uomo Per uccidere Sua moglie Il sicario Ha ucciso Sandra Per errore Poi Lord Lucan Arrivato Per ripulire E smaltire Il corpo Ha scoperto L'errore E ha attaccato Sua moglie Ci sta anche questa Ci sta anche questa Perché no Non è Non è Plausibile Però perché Perché Ripulire lui Quando ha soldato Il sicario Non ha senso Questo no Perché andare A ripulire lui Se ha soldi qualcuno Tu la prima cosa Che fai È crearti un alibi Cioè Penso che sia davvero Se ci arrivo io Che sono L'anticrimine Cioè che sono Che sono Il più lontana Possibile Dal Come dire Dall'essere Un assassino Credo Ho spero Finora che è stato così E Cioè La prima cosa Che fai Se ha soldi Un sicario È crearti Un alibi Cioè Se è stata Una cosa Premeditata Tu ti fai Vedere Da mille persone Nel luogo Più lontano Possibile Non sei lì A ripulire Perché Chiaramente Fra l'altro Lui Sarebbe stato Il primo accusato Cioè In questi casi Qui è sempre Il marito Il primo accusato Quindi Davvero Non ne vedo ragione Proprio Non ne vedo ragione Ecco Rossana Rossana E se la moglie Fosse gelosa Dell'affetto Che i figli Avevano Per la tata Ok Ci sta Rossana Però Puoi allontanare La tata Dai Quello L'omicidio Mi sembra Una soluzione Un po' Esagerata Ecco Un po' Esagerata No Io dico La mia La mia Soluzione È questo La tata È stata Uccisa Perché Doveva Essere Uccisa Lei Io Cioè Secondo me Di tutte le ipotesi Che possiamo Fare stasera Al bar sport Di vanilla Il Il La tata Secondo me L'obiettivo Era la tata Non era un'altra Era la tata E Ci va in mezzo Ci vanno in mezzo Loro Con questa storia Pazzesca Perché Sono Appunto Come dire Sfortunati Nell'andarci In mezzo Vado a leggere Qualche commento Di ospiti speciali Minotaur Manu Racing Che domani È il tuo compleanno Ti ho fatto gli auguri Prima Spero tu mi abbia sentito Se fosse stata la tata È il vero obiettivo Perché salire le scale E aggredire la moglie Piuttosto che fuggire Dopo averla Rinchiusa nel sacco Lei mirava Alla custodia dei figli Ma lui la ostacolava Allora Perché salire le scale Giusto Secondo me Potrebbe essere andata così Lui stava salendo le scale Per scappare Ma la moglie L'ha beccato in mezzo Tra la porta E le scale Che salgono Dal seminterrato Alla porta di uscita Ma anche lì Aggiungo Cioè Se tu vuoi ammazzare Tua moglie Perché metti la tata nel sacco Cioè Che senso ha Davvero Non la Non la vedo Plausibile Cioè Che lui sia l'accusato Proprio non lo vedo plausibile Cioè Non aveva nessuna Qualsiasi cosa Avesse fatto di quel genere L'avrebbe Come dire Incolpato Io ribadisco Secondo me Vabbè L'ho detto già due tre volte Io Sono convinto di questa teoria L'obiettivo è la tata E sono loro Che ci sono andati a finire di mezzo Per sfiga Perché Per mille ragioni Ci sono andati a finire di mezzo L'obiettivo era la tata Perché altrimenti Non l'ammazzi Qualsiasi altra ipotesi Andava a mettere in difficoltà Il marito Certamente La cosa più plausibile È che sia stata la moglie Ad ammazzarla Ma la moglie Con quale ragione Ammazza una tata Quando la puoi mandare via Semplicemente licenziandola Secondo me L'obiettivo Rimane la tata Ed era qualcuno Che la conosceva Perché sapeva Che la sera prima Era stata A un evento fuori E quindi Aveva scambiato il giorno Eccetera Forse un fidanzato geloso O il Chissà chi Non lo so Però Mi sembra più plausibile Questa soluzione qui Perché altrimenti Non vedo nessuno Che ci guadagni Dalla morte della tata E soprattutto Perché ucciderla Perché se sei un sicario Scappi Non l'ammazzi Se sei Lord Lucan Cioè Scappi Non l'ammazzi Oppure rimane lì Dicendo Guarda Sono venuto a prendere Che ne so Il sale Che non avevo a casa Visto che tra l'altro Abitava lì vicino Ammazzarla Era la soluzione Più sbagliata Lui scappa E si nasconde E questo mi sembra strano Sono sincero Perché? Perché sei un Lord Cioè Non sei Il Matteo Ruboli Della situazione Che non è nessuno Sei un Lord È facile Che Tu riesca ad avere Dei buoni avvocati Che ci sia una parte Dell'intelligenza inglese Che ti viene dietro Difficilissimo Che si arrivasse A condanne Come dire Drastiche Perché scappare Questo mi fa Sospettare Che Poteva esserci lui Di mezzo Boh Non lo so Però Dico La tata morta Mi sembra proprio strano Ecco Dice Penny E se fosse stato Un uomo geloso Che frequentava la tata E poi la moglie Ne avesse approfittato Per incolpare il marito Sì Questo Cioè Questa è veramente Secondo me La più plausibile Ecco Cioè Quella Il dopo Con la moglie Che lo incolpa Ecco Potrebbe Cioè Ci può stare Capito Perché lei è gelosa Cioè Scusami Perché lei Vuole Vuole la custodia di I figli Non lo so Però anche questa Mi sembra un po' Forte Secondo me La moglie Potrebbe aver beccato lui Cioè Ripeto Facciamoci proprio In testa La situazione In casa Cioè Una casa grande Come sono quelle inglesi Col seminterrato Due persone La tata E quest'altro uomo O donna Perché no La tata E l'assassino Barra Sono di sotto E L'assassino Uccide la tata La mette nel sacco Sta per uscire Lord Lucan Entra Si scontra Con l'assassino L'assassino Riesce a uscire La moglie Nel mentre Arriva E Nel trambusto Di vedere Queste due persone Magari Non pensa che Non lo so Vede il marito Oppure il marito Magari rimane lì Come stordito Diciamo Arriva la moglie Lui le dice qualcosa Lei scappa E si inventa Chissà che Si inventa Che lui ha ucciso La tata Eccetera Oppure Il marito Lord Lucan Arriva nel seminterrato Vede che L'assassino Sta uccidendo Scusate Sta mettendo dentro Il sacco La tata L'assassino Scappa Lord Lucan Magari macchiato di sangue Nel tafferuglio Sale su Dice una roba Sacco Tata Uccisa La moglie Riesce a scappare Eccetera A me Questa Sembra la soluzione Più plausibile Devo dire la verità Perché Altrimenti Non vedo il movente Cioè qui Di solito si dice Segui il profumo Dei soldi No? Segui i soldi Diceva Giovanni Falcone Però Qui Davvero Non Non ho Proprio Come dire Non ho appigli Per ragionare Perché uno dei due coniugi Potesse voler la tata morta Se l'avesse voluta la moglie Avrebbe potuto semplicemente Avvicinarla Allontanarla Scusate Se l'avesse voluta il marito Il Lord Lucan Che ragioni aveva Di voler morta la tata E soprattutto Vai ad ammazzarla In casa tua Ma è chiaro Che ti incolperanno E soprattutto Che cosa ci fai lì? Cosa ci fai lì? Cioè Se hai assoldato un sicario Cosa ci fai lì? Scappa Vai via Fatti un alibi Il più lontano possibile No Non mi Non mi Cioè l'ipotesi Che lui è l'assassino Proprio non mi convince Per niente Ecco Grazie Storia e cultura Sprint Sì dai Le live Sugli assassini Le live Noir A me sono sempre Piaciute molto Perché poi dopo Posso perdermi In fare queste Ipotesi Strane Strambe Mi stimolano Ecco Emi C'è da dire Che ci sono luoghi In cui è più semplice Uccidere la tata Entrare in una proprietà Dove sicuramente C'è qualcuno Non è molto smart Fra l'altro È vero Giusto Questo Questo è ragione Io guarda Ti dico Secondo me La butto lì Un ex fidanzato geloso Un fidanzato geloso Perché no Una persona Coinvolta In qual Cioè noi della vita Della tata Non sappiamo nulla Chissà Che cosa avrebbe potuto fare In che cosa potrebbe Essere stata coinvolta Secondo me L'obiettivo era lei Non vedo ragioni Altrimenti Perché Lord Lucan O la moglie La vado ad ammazzare Proprio non ne vedo La moglie gelosa Non ammazzi la tata Cioè Non lo so Mi sembra strano Magari sto sbagliando Però Lui non vede l'ora Di tornare con i figli Che difficoltà È a riprendertelo in casa Voglio dire Sei stata tu A chiedere il divorzio Cioè tu moglie Hai chiesto il divorzio Che gelosia Puoi avere per la tata E l'ammazzi Mi sembra Proprio plausibile E Non so se vi ricordate Questo Questo caso qui Mi ricorda Tantissimo Un film Di Woody Allen Che si chiama Matchpoint Se non ricordo male Sì No non è Matchpoint Mi confondo sempre No Scoop Scusate Sono due film di Woody Allen Ambientati tutti e due In Inghilterra Uno si chiama Scoop E l'altro si chiama Matchpoint Quello A cui mi riferisco Io è Scoop Che è Con Scarlett Johansson Hugh Jackman Hugh Jackman Scarlett Johansson E Woody Allen E c'è questo Seminterrato Dove lui Tiene Lui è il serial killer Dei Tarocchi No cavolo Uno spoiler tremendo Vabbè Comunque Lui tiene questo Mazzo di Tarocchi E E c'è questo Semi interrato In cui Scarlett Johansson Johansson E Woody Allen Vanno sempre Su e giù Da questo Semi interrato E ti crea un'ansia Anche se è un film comico Che è riuscito molto bene Ecco Mi ricorda tantissimo Scoop Insomma Tra l'altro Un film magnifico Secondo me E dice Penny Magari il fidanzato geloso La stava pedinando Dice Valeria Matteo stai sottovalutando Il grado di gelosia Di una donna Purtroppo ci sono storie simili Con donne che non mollano gli ex Neppure dopo il divorzio Può essere Non lo Sarà che io non lo concepisco Però ecco Così Allora Vado a leggere Jennifer Lei è comunque Corsa fuori casa A cercare aiuto Forse perché Sapeva che Oltre la tata morta Non c'era nessun altro a casa E quindi è uscita Senza lasciare i figli In pericolo Emanuela Molte tate Sapendo di avere casa libera Invitano il ragazzo In casa dei proprietari Mentre lavora Anche perché Non doveva lavorare Quel giorno E forse aveva appuntamento Col fidanzato Dice Penny Io voto la tresca segreta Che è stata scoperta Dalla moglie Ok bene Non ho convinto Pennypedia Quindi Non ti ho convinta Vediamo se ho convinto Qualcun altro Barbara Entra un ladro La tata lo scopre E costui la uccide Il lord Vede in faccia L'assassino E ne viene Ucciso Così sparisce Dalla scena Anche questa Non è una bruttissima Non è una brutta Una brutta ipotesi Questa ci può stare Già di più Mi piace di Di più Penny La cosa assurda È la coincidenza Che Lord Lucan Capitasse anche lui Lì Nello stesso momento Del killer Della tata La moglie fugge Insanguinata Ma in cucina Non c'è sangue Non può esserci stato Il tempo per pulire La tata È stata uccisa Non la sera Ma prima Allora no In cucina C'era sangue Dove non è stato trovato Sangue È stata la casa Degli amici Di Lord Lucan Dove lui va dopo E Dove si rifugia Diciamo Dove loro raccontano Che lui si è rifugiato Per poche ore dopo Anche qui Loro che non chiamano La polizia Insomma Qualche sospetto Viene su questi amici A me sembra parecchio contorta Devo dire la verità Non Non lo so Non lo so Dice Penny È stato un omicidio Ed impeto E non premeditato Dice Claudia Però chiedo scusa Come ha detto Matteo Perché non riprendersi Il marito in casa È lì Cioè Nel senso Se sei gelosa Io ragazzi la vedo così Cioè se sei gelosa Perché non ti riprende Il marito in casa Che problemi hai Cioè questo qui Non vede l'ora Di stare con i figli Ti mette gli detective Fuori di casa E tu cosa fai Amazzi la tata sprangate Boh ragazzi A me sembra un po' Non lo so Poi tutto può essere Perché davvero Come diceva Mark Bloch Improbabile Non è impossibile Nella storia Questo bisogna dirlo Improbabile Non vuol dire Che sia stato impossibile Dico solo A me sembra più improbabile Questa Però Lascio decidere a voi Ecco Sto cercando di arrivare Al nesso della storia Senza aver visto La live dall'inizio Renato Adesso potrei farvi Un riassunto veloce E poi facciamo Altri 20 minuti Di discussione Aspetta Cristina Leggo il tuo Sì ma se la tata Lo ha fatto entrare in casa Visto che non c'erano Segni di effrazione Teoricamente Dovrebbe essere stato Qualcuno di fiducia No? Io ragazzi Sarò Boh Sbaglierò Ma io voto Ribadisco Voto per L'omicidio Contro la tata Lei lo fa entrare in casa Lui magari sta in cucina Poi succede qualcosa Qualsiasi cosa Che noi non sappiamo Magari lei Gli due ha dei soldi Magari Lei è incinta E lui L'ammazza Ma chissà Peraltro Questa è una storia Alla Scoop Che è l'altro film Di Woody Allen Secondo me Woody Allen L'ha letta Sta sta cosa Di Lord Yukon Lei magari è incinta E l'ammazza Insomma Mille altre storie Io Voto per La tata Che era l'obiettivo Non che fosse Assolutamente Che fosse La moglie Ecco Però chiudo qui Ok E' un riassunto brevissimo C'è una coppia Di Lo faccio per chi è entrato ora E poi dopo altri Un quarto d'ora 20 minuti di live C'è una coppia Di persone Che sta insieme Hanno tre figli insieme E questi due divorziano Lui è un po' Uno scavezzacollo Lei è una donna Abituata alla bella vita E lui pure Vivono in questa casa Tipicamente inglese Quindi su più piani Grande Dopo che hanno divorziato C'è un turnover di tate Fino a che non trovano Questa ragazza Sandra Che è la ragazza giusta Viene adorata dai bambini Sta simpatica a lui E a lei Benissimo Una sera Questa tata Viene uccisa Sprengata in testa Con un tubo di piombo Coperto di scotch Viene uccisa Nel seminterrato Dove c'è la cucina Della casa Nella casa Non ci sono segni Di effrazione La donna Di casa La moglie Diciamo Di Lord Lucan Lady Lucan Anche se erano divorziati Scende per andare a vedere La tata Che fine avesse fatto Scende dalle scale Incontra un uomo Che lei Afferma essere Il proprio marito Ex marito Che l'aggredisce Ma lei riesce A divincolarsi Atrizzando di testicoli E riesce a scappare di casa I tre figli Sono di sopra Che dormono Lei scappa Corre al pub Al pub lì vicino Dice che il marito L'aggredita E' uccisa la tata Arriva alla polizia E trovano la scena Del crimine Che è La tata morta Chiusa nel sacco Di sotto E i tre bambini Di sopra Che dormono Lord Lucan Viene visto Cioè Va a casa Di amici Lontano da Londra Una cinquantina di chilometri Da Londra Dove dice Che La moglie Scusate Che un altro uomo E' scappato La moglie Lo ha Lui è entrato in casa Perché aveva visto Una colluttazione La moglie Lo accuserà Certamente Dell'omicidio Della tata Per Come dire Incolparlo E prendersi La custodia Dei figli E Che quindi Lui scappa Dall'Inghilterra Va via E scappa Si farà sentire Quando avrà notizie Quando avrà notizie In questa casa qui Non vengono rinvenute Tracce di sangue I coniugi Che ricevono L'amico Quindi Lord Lucan Non dicono nulla La polizia Per due giorni Di questa vicenda Poi dopo Quando leggono Tutto quanto Sui giornali O comunque Quando succede Quando scelgono di dirla Dopo due giorni Viene fuori Che Lord Lucan Aveva lasciato loro Una lettera Per il cognato In cui diceva Prendersi cura Dei figli Eccetera Trenta chilometri Lontano Da Londra Più o meno Dal luogo Dell'omicidio Viene trovata L'automobile Che Lord Lucan Aveva utilizzato Per Recarsi A Londra Diciamo E dagli amici Dove viene rinvenuto Un tubo Di piombo Uguale A quello Che Era stato Usato Come arma Del delitto Questi sono I fatti Allora Le ipotesi Sono Sul piatto La moglie gelosa Uccide la tata La mette nel sacco E Accusa Il marito Di aver Ucciso la tata Io faccio L'ipotesi Che invece L'obiettivo Fosse la tata Magari uccisa Da un fidanzato Geloso Da chiunque altro E che Lord Lucan Si sia trovato lì Ma per Sfortuna Per una serie Di coincidenze Il figlio Di Lord Lucan Ha fatto L'ipotesi Che Il padre E anche Il figlio Di Della tata Che è stata Uccisa Ha fatto L'ipotesi Che il padre Avesse assoldato Un sicario Ma per Spaventare La moglie La tata Ci sia finita Di mezzo Per sbaglio E che sia stata Uccisa Sostanzialmente E via Io Non lo so Mi ribadisco Secondo me Io rimango Per la mia teoria Non mi son convinta Di Di altro Aggiungo questo però Sulla premeditazione Che molti di voi Hanno detto Non era premeditato Se la tata Era già insaccata Ma come faccio Dentro al sacco Ma come faceva Non essere premeditato L'omicidio Cioè se tu vai In un posto Con un sacco In grado di contenere Una persona Cioè L'avrai pensato Prima Di ammazzarla Ecco Quindi mi va bene L'ipotesi del sicario Che abbia Sbagliato Persona Con la moglie Ci può stare Ma Non ci sta Che sei stato sorpreso E L'ammazzi Perché altrimenti Perché insaccarla Ecco Va bene Giada Magari la tata Era incinta di Yucan Lui l'ha uccisa Ma senza premeditazione E quindi Non ha pensato A crearsi un alibi Cristina Comunque Questo caso Ha troppe soluzioni Possibili Potrebbe essere Andata in troppi modi Differenti Impossibile Venirne A capo Dice Ruben Per forza Era premeditato Infatti Non sarebbe Logico Diversamente Ma si guarda Cioè a me Sembra Cioè a me Sembra lampante Quello che ci perde Sicuro Cioè Lasciamo stare Le mille Ipotesi Che effettivamente Si possono fare Però Da questa cosa qui Chi ci avrebbe perso Sicuro Era Lord Yucan Cioè non c'era un altro Che poteva perderci Perché lui Trovandosi lì In qualsiasi caso Ci avrebbe perso Perché era Sicuramente Il primo sospettato Il primo accusato E quello Che avrebbero Incolpato Al 100% Quindi Chi sia stato lui A ucciderla Proprio Non mi persuade Per nulla Che sia stato un sicario Che abbia sbagliato Obiettivo Ci può stare Ci può stare Perché era Premeditato Era Come dire Era organizzato da prima Quindi lui ha un sacco Si sbaglia Il sicario scappa Magari Lord Yucan Entra Perché gli ha detto Guarda che ti sei sbagliato L'obiettivo è di sopra Non lo so Mi viene da pensare questo Nella tragicità dell'evento Però sinceramente A parte questa ipotesi qui Io Se assoldo un sicario Sto lontano Dal posto Dove ho soldato Cioè dal luogo del delitto Ma mi sembra la base Cioè sto in mezzo A mille persone Quale imbecille Va a mettersi Se ha soldi un sicario Va a mettersi Lì Perché doveva esserli lui Ecco Cioè questo proprio Non me lo spiego E via Va bene Ma dobbiamo leggere Qualche altro commento È possibile che l'assassino Della data Per paura di essere scoperto Ha ucciso poi anche il Lord E gli ha messo l'arma del delitto Nella macchina In modo che si scagionasse totalmente Sì Questo è possibile È una ipotesi Che fanno Che hanno fatto appunto I figli Orfani Gli orfani Hanno fatto questa ipotesi qui Ovvero Che Ah no Loro hanno fatto l'ipotesi Non che sia stato il sicario A ucciderlo Ma che sia stato l'amico Che aveva Assoldato il sicario Cioè loro dicono Non ci sono solo quattro persone Quindi sicario Tata Moglie E Lord Lucan Ce n'è anche una quinta Che è l'amico E l'amico avrebbe Ucciso Lord Lucan Dopo che questi Era scappato Questa qui è l'ipotesi Che fanno loro Secondo me Dai Potrebbe Cioè c'è un senso In questo ecco Ehm Claudia Per la fiera dell'ovvio Persone disperate Fanno cose disperate Lord Lucan Desiderava ricongiungersi Con i figli E forse voleva punire la moglie Maria Rosaria Papa Il delitto Secondo me era in qualche modo Premeditato Perché l'arma del delitto Non è un oggetto d'uso comune Trovato lì In un impeto di rabbia Anche secondo me La tata era il vero obiettivo Giada Magari Nel seminterrato C'era un sacco Non è detto Che sia stato portato lì Se veniva usato Come una cantina Ci poteva essere qualunque cosa In quello di mia madre Ci sono dei fossi di dinosauro Eh sì è vero Allora non era una cantina Era una cucina Veniva usata come cucina Prima non l'ho specificato Ecco Ecco Scusate Esatto bravo Valentina Ci dice questo Possibile che l'assassino della tata Ah no scusate Mi ho sbagliato Allora continuo a leggere l'ipotesi Emanuela E se Lady Lucan Ha scoperto che la tata D'accordo con Lord Lo chiamava per fargli vedere I figli In assenza della mamma Lady uccide la tata E aspetta che arrivi il Lord Perché non allontanare la tata? Dai questa mi sembra la soluzione Cioè perché arrivi all'omicidio Signori Cioè un omicidio Non è una cosa da poco Ecco Ci sta ma Boh Risate d'arte Se il tubo era coperto di scocce Per attutire il rumore Come dite voi Escluderei il non premeditato Mi sono perso un commento Che mi piaceva un sacco No basta Niente Ok Elisabetta dice Abbiamo tutti in cantina Reperti archeologici Sì Sì Mi piacerebbe molto Averne anche a me Ma io invece ne ho Ne ho pochi Ecco Sfrutto la cantina Tutto tutto qua Tutta la cantina Bene Allora dunque Direi che non siamo arrivati A una soluzione Che piace a tutti Ovvero tutti quanti Noi siamo rimasti con le idee proprie Ci sta assolutamente Io non devo convincere nessuno No è vero C'è un caso talmente intricato Che Io personalmente propendo Soltanto per la logica Di chi ha convenienza In che cosa Quindi Chi è che aveva meno convenienza Al fatto che la tata morisse Ed era secondo me Lord Lucan Però ribadisco È soltanto la mia idea Ecco Non voglio convincere Nessun altro Nessun altro Ecco Comunque È così Ecco Dice Claudia Ecco Questo però Mi piace andare a specificare Chiedo una cosa Ma questi amici di Lord Lucan Quanti erano E quanto erano potenti? E allora Ragazzi Erano molto potenti Perché lui era Un lord della Camera dei Lord Quindi lui poteva avere amici A qualunque livello sociale Era il settimo Lord Lucan Quindi un conte Se non ricordo male Si conte di Lucan E Cioè Sono Lord Signori Questi sono le persone L'elite che comanda l'Inghilterra Hanno proprietà Hanno di tutto Ecco Peraltro lui morendo Mette nelle pesche La moglie Scusate Lui sparendo Mette nelle pesche La moglie E i figli E i figli Perché non possono Ereditare nulla Di quello che lui aveva E quindi le rendite che aveva Non le eredita nessuno Ecco E via ecco Dice risate d'arte Mi convinco O uno è completamente imbecille E dice Ok La voglio ammazzare Voglio che lo sappiano tutti Ma altrimenti Non ti presenti a casa Della tua ex moglie Con i bambini Con una spranga di ferro In scotch Di più Se la moglie Avesse visto un sicario E non il marito Cioè secondo me La moglie Ha veramente visto il marito Non te ne vai di casa Scappando a un pub Con i tre bambini di sopra Se hai un sicario in casa E una donna morta Nel seminterrato Cucina Mi sembra strano anche questo Secondo me Il marito e la moglie Veramente si incrociano Lì nella scala Ovviamente guardate La mia molletta Che utilizzo qua Per diverse ragioni E Non te ne vai Con Con i tre figli di sopra E il sicario lì dentro Cioè Trovi qualcuno in strada Ti prego aiutami C'è un sicario dentro casa Con i figli Quindi secondo me Moglie e marito Si incrociano veramente lì Cosa ci faceva lì il marito È un'ottima domanda Questa secondo me È la cosa un po' più difficile Da capire Cosa ci facesse lui lì Però Non vedo logico Che lui vada a ammazzare La tata Proprio non lo capisco Non aveva nessun movente Per farlo E non con una spranga Di piombo E non che dopo Vai dalla moglie Cioè lui perché Non ha senso Non ha proprio senso Quindi secondo me L'obiettivo Era la tata E È stata uccisa Con una spranga di ferro Messa in un sacco Per essere portata via Probabilmente Io immagino questo Magari l'assassino Pensava che La La signora di casa Lady Lucan Fosse via di casa Arriva la tata Quello la sorprende Gli dà una gran spragata in testa L'ammazza più o meno E poi viene da altre Quattro o cinque La finisce La mette nel sacco Per portarla via Risale le scale Sente qualcuno Che sale dalle scale Magari Oppure che scende giù Dalle scale Scusate Magari Lord Lucan Magari Lady Lucan Lui ha una collutazione Con uno dei due Riesce a scappare Lord Lucan Risale le scale Per andare dalla moglie Per andare a vedere Se tessero bene di sopra La moglie lo trova lì Magari sporco di sangue Lui le dice qualcosa Tata Sacco Eccetera La moglie scappa E dice Lui ha ucciso la tata A me sembra la soluzione più plausibile Questa è la mia soluzione Poi Ok Le altre sono Sono diverse Anche Del tutto plausibili Ma ripeto Mi sembra strano Che sia stato lui Perché Che convenienza Avrebbe avuto Ecco Ultimi commenti Allora Ecco Dice Cristina Giusto Questo Questo è così Cristina Comunque ovviamente Non sappiamo troppe cose Riguardo le loro vite Dunque Chissà quale possibile Movente potrebbe esserci Dietro tutto ciò È vero Questo è molto giusto Cristina Infatti Nell'articolo di Roberto Non viene specificato Non so In realtà Se ci sia una bibliografia Dietro questo Bisognerebbe avere Gli atti del processo Chissà poi se in realtà Si sa Cioè nel senso Boh Una volta le vite Erano molto meno pubbliche Di quello che Di quello che siano adesso Cioè oggi Uno col profilo Facebook Col profilo Instagram Riesce un po' A farsi un'idea Di che persona Ci sia dietro Magari la tata Chissà chi era Magari la moglie Chissà chi era O lui Chissà che terribili cose Potesse aver fatto Non ho idea Ecco Quello che è sicuro E che Quello che ci perdeva Certamente da questa cosa Era lui Quindi a me sembra L'unico Che non sia colpevole Però Qui finisce la mia Dissertazione Adesso leggo solo I vostri commenti Laura Comini Lord Lucan In seguito sparisce E si suicida Mi sembra strano Secondo me è facile Che lui sia stato ucciso Anche a propria volta Ecco Questo Questo sì Allora Annelisa Lui sicuramente Non era già in casa Sicuramente è sparito Quindi mi sembra Molto probabile Che sia il colpevole Ok Ci mancherebbe Ci mancherebbe E mi dice In tutto questo Non c'era nemmeno Un collaboratore Domestico Sembra di no Sembra Sembra di no In effetti Non c'era Non c'era Nient'altro No Così non riesco Non riesco proprio A vederli Allora Renato Sì l'avevamo affrontata Questa ipotesi Matteo Ma può essere Magari La butto lì Premeditazione Della moglie Non so Magari per motivi Economici Potrebbe essere Tutto signori Non lo so Come ha detto Qualcuno Prima Direi Cristina Le ipotesi Sono troppe Cioè le soluzioni Effettivamente Sono tantissime Quindi difficile Riuscire A immaginare Una soluzione Univoca Al caso Perché noi Che non sappiamo Nulla delle loro vite Non riusciamo A farci un'idea Io personalmente Posso dire solo Che il ragionamento Di lui Che l'ammazza Così Mi stona proprio Però potrebbe essere Per chissà Quali ragioni Che noi non conosciamo Potrebbe essere A me stona Dico di più Però ripeto Che hanno fatto Una serie tv Su questa cosa qui E dico la verità Ho un sacco di voglia Andarmela a vedere Devo dire la verità Mi ha fatto molto Questa serata Mi ha fatto molta voglia Di andarmela a vedere Vediamo se riesco a trovarla In inglese Ecco Annalisa dice Effettivamente Il caso è molto ingarbugliato Anche la moglie Avrebbe potuto Incastrare Il marito Infatti Infatti potrebbe essere Andato tranquillamente Tranquillamente così Purtroppo Per chi ha chiesto Una Una soluzione Al caso Non riusciremo a darla Stasera sicuramente Però è stata una bella serata Tante ipotesi Ho visto che Siamo Tutti quanti Ci siamo fatti La nostra soluzione Che poi è bello così Nei gialli Cioè tu ti fai La tua convinzione Senti quella degli altri Ma tante volte Rimani convinto Dalla tua Io sono rimasto convinto Della mia Voi probabilmente Vi siete fatti Una vostra opinione E siete rimasti Convinti della vostra Però Dico È stata veramente Una bella serata Io Direi che sono Qui in Grecia Sono le undici e mezza E quindi È il momento Di salutarvi Vi do appuntamento A domani mattina Alle otto Come tutti I lunedì mattina Ci sarà il video Che peraltro È ancora in caricamento Speriamo che ce la faccia Questa connessione greca A caricarlo E Vi do appuntamento Con la live A domenica prossima E nulla Vi auguro buonanotte Vi ringrazio tantissimo Per essere stati con me E Buonanotte E a presto Ciao a tutti